Potrebbe già essere operativo dal prossimo Consiglio Comunale, convocato per il 30 di novembre. Parliamo di Giacomo Di Stefano, che nelle prossime ore sarà proclamato nuovo consigliere comunale di Fevara dopo le dimissioni presentate ieri del consigliere Francesco Cipolla. Quest'ultimo, riconfermato consigliere nelle file del Fli lo scorso 29 e 30 maggio 2011 con 356 preferenze, ha deciso nella tarda mattinata di ieri di rassegnare le proprie dimissioni per motivi personali. Voglio starmene un po' tranquillo, aveva detto. Alla domanda se lo vedremo impegnato politicamente in altri fronti ci ha risposto. Al momento sono in stand-by, voglio dedicarmi alla mia famiglia. Al suo posto quindi subentra il primo dei non eletti nelle file di Fli, Giacomo Di Stefano, votato da 245 cittadini.